Start, 2, 1, Mystery Mission, and Liftoff! In questo stato è soltanto 6 mesi o forse di più, però non si parla comunque di anni. È un gioco che mi rievoca in qualche modo anche un titolo come The Settlers ed è un gioco che io giustifico come prezzo perché a tanta roba c'è da dire che il tutorial è penoso, non è niente di che. Hanno già una roadmap sulla pagina Steam e adesso gli sviluppatori mi hanno mandato il gioco a dicembre, lo sto portando solo adesso inizio febbraio e a febbraio è già previsto un aggiornamento sull'economia, quindi aggiungeranno il capanno di pesca, il deposito grande, le statistiche di produzione, ma in futuro hanno previsto anche le miniere, con le miniere sotterranee, l'oro gioielli, il geologo, la modalità cooperativa e migliorie varie. Sarà possibile combattere in modo strategico contro le altre frazioni, unirsi alle frazioni, compiere missioni per loro, insomma si possono fare tante cose. Io qui non so diciamo ancora molto del gioco, inizio solo mandandolo a velocità 1 così vi faccio vedere. Vi faccio vedere quello che io ho capito, quello che il gioco ha da offrire. Non inizio dall'inizio inizio perché non ha senso, si inizia con questa nave, l'avventuriera, con tutti gli occupanti. Qua in alto abbiamo un menu che credo e spero non rimanga così perché è abbastanza ingombrante. Qua c'è il tutorial, non vi dice nulla, vi dice cosa costruire, vi costruite esattamente come ho fatto io, a caso, per poi capire e pianificare meglio. Ma in sintesi, qua possiamo vedere l'isola con l'area esplorata, l'area rivendicata perché man mano ci espandiamo, man mano facciamo le torri di osservazione, più i nostri confini si allargano. Abbiamo, perché è una delle mappe iniziali, poi ce ne sono altre, abbiamo la popolazione che sono 507 persone, abbiamo le case, è divise poi per metà in inglese, metà no, però gioco prevalentemente in italiano, divise tra le abitazioni, i campi militari, gli abitanti che abbiamo, perché al momento la popolazione è questa, ma penso che alcuni siano ancora sulla nave, la costruzione e così via. Abbiamo diverse cose, prima di tutto le strade, le strade le possiamo pianificare, vedete, possiamo cliccare qui e trascinarla a segmenti e nel momento in cui noi andiamo a finire il nostro percorso, clicchiamo sull'ultimo punto e ci piazza la strada. Abbiamo l'esplorazione e l'espansione, quindi le torri di guardia che espandono il territorio, quindi se io la piazzo qui, espando, vedete il confine qui, la metto qui, espando ulteriormente, metto qui questa e poi vado a espandere. Il territorio, una volta che la costruiscono, la guarnigione, che praticamente ci consente di amministrare le unità militari e adesso vi faccio vedere, perché vedete che, sì, questo espande effettivamente le pietre di confine, l'accampamento militare e il capanno dell'esploratore. Abbiamo poi nel legno e pietra la possibilità di fare capanne del taglia legna, per tagliare la legna appunto, perché pensate che all'inizio partita qui c'era la foresta, adesso la stanno spostando qui, grazie al capanno del guardia boschi che sta ripiantando gli alberi tagliati. La cava ce ne sono diverse, che sono qua, e le cave se le mettete vicino a delle pietre come ad esempio queste, pietra calcarea, ve le raccolgono. In questo caso adesso stanno raccogliendo pietra normale. Abbiamo poi la taglia pietra, che è quello che ci consente appunto di tagliare le pietre, e qua cliccando su ogni singolo edificio potete vedere cosa produce, potete stoppare la produzione, produce pietra tagliata e pietra di confine, che appunto è una risorsa anch'essa. Abbiamo poi il fantoio per le pietre, che al momento io non ho, ed è chiaro perché vi dice cosa usa, cosa produce, cosa chiede per la sua costruzione. Tra l'altro qua ci sono vari tipi di legno, e vi dice anche quanti ne avete riservate per delle costruzioni già in corso, e quante sono appunto disponibili. Ce ne sono diversi di legno, legno tenero, legno duro, le assi dei relativi materiali, e poi gli ingranaggi. Abbiamo infine l'accampamento dei costruttori, è comodo se siete in una zona nuova, come ad esempio potremmo essere qui, piazziamo questo e loro dormono qua. Succedeva una cosa simile anche su Fartes Frontier. Abbiamo la produzione alimentare, divisa per capanno del foraggiatore, residenza di caccia dove cacciano gli animali, fattorie per ortaggi che amministra, vedete qua c'è fattorie per ortaggi, poi potete piazzare le varie fattorie terreni coltivabili, e la fattoria dei cereali. Producono cose diverse, ad esempio qua producono delle cose, qua ne producono altre. E poi così il pozzo produce acqua, giustamente, il mulino vento che non ho ancora, usa il frumento, produce la farina, e poi abbiamo il forno che prendendo la farina, l'acqua e la legna produce con anche il cemento, e quindi vedete in questo caso ci serve il cemento, dovremmo fare quell'edificio che non avevamo fatto prima, che era il fantoio per pietre. Abbiamo la preparazione, popolazione scusate, e pasti, quindi cottage, che man mano il tutorial ci fa costruire, ogni cottage ospita 10 persone, qua abbiamo le abitazioni da 25, il fornitore, che ci preparano le razioni per esploratori e minatori, la fontana del mercato, le bancarelle dove portano il cibo dei cacciatori, insomma, e si vanno a scambiare. Abbiamo la taverna e abbiamo il tavolo della taverna, quindi voi costruite la taverna, ogni tavolo deve essere comunicante con la strada, l'ho scoperto dopo un po', la miniera, le miniere, scusate, divise per rame, carbone, ferro e baracca dell'argento e la fonderia, quindi per creare i lingotti, in questo caso ho fatto questa bruttissima zona in cui ho creato una strada e qua sto mandando a costruire, vedete qua mi dice che non c'è nessuna connessione con la strada principale, perché qua c'è, è una cava normale, devo scavare con la pietra calcarea, è un obiettivo del, vedete qua, del tutorial, ma qua ci sono anche altre pietre da scavare, ne dovrei aver piazzato anche altre, vedete qua c'è la baracca del carbone che scava il carbone, qua c'è quella del rame che scava il rame, tuttavia voglio capire perché non me la, e vedete che non comunica qua, ed è un gran problema questo, e questo è un gran problema perché non riscono ad arrivare qua, cioè ufficialmente ci arrivano ma per le costruzioni non va bene, quindi potrei pensare di fare qualcosa di alternativo ma non me lo fa fare purtroppo, devo trovare il modo di passare, dovrò demolire questo edificio qua, per forza di cose, anzi lo magari cerchiamo di farlo immediatamente, in modo da far comunicare la strada, in questo caso risolveremo il problema, e poi andiamo a ricostruire la baracca del carbone. Potete cliccare col tasto destro tenendo premuto, posizionate l'entrata sulla strada, ok. E poi abbiamo la lavorazione, la filanda che produce corda e tessuto, abbiamo il negozio del salato che fa le armature, e poi il conio che ci permette di produrre monete di rame e d'argento, quindi dare vita poi a una moneta per lo scambio, anche con altre fazioni. Le attrezzature, queste sono le attrezzature e addestramento, abbiamo la sala della gilda, dove potete andare a, dovrebbe essere da questa parte, specializzare determinate persone a diventare scavatori, trasportatori, mercantili o costruttori. Ci sono poi la forgia per gli strumenti, potete produrre a vostra scelta, usando i materiali che avete state raccogliendo, quindi crearvi le vostre catene di produzione nel villaggio, i vari attrezzi che servono. Abbiamo anche la fallinameria, che ci fa costruire, vedete, anche l'ingranaggio di legno, perché la fallinameria, vedete che qua, cliccate, potete scegliere di tenere una produzione di un certo tipo, produrla all'infinito, e in pratica qua produco l'ingranaggio di legno, ne ho fatto produrre uno, adesso ne ho ancora due, perché per la filanda, per costruirla, mi serviva l'ingranaggio di legno, e non ce l'avevo, quindi sono dovuto andare qui e selezionarla. Non ho ancora la forgia di armi, la forgia di armature, la forgia artigiana, ho l'accademia militare e la gilda degli avventurieri. Ora, vi faccio vedere una cosa, qua vedete, potete reclutare al costo di una lancia, e qui, e questo è una guardia, e qua è una guardia veterana, mi serve la cotta di maglia e la lancia di ferro, e così via, andare a reclutare anche i soldati, oltre alle guardie, in spada di bronzo, quindi vi servirà qualcosa che vi scava il bronzo, che ve lo trasforma in lingotti, va nel deposito, il laboratorio produce, e poi fate quello che dovete fare. Ad esempio, qua la gilda degli avventurieri mi serve per produrre un... credo di... doverlo fare... no. Fornisci personale e attore di guardia, ok, no, devo ancora fare altre attore di guardia. Però mettiamo caso che io volessi costruire, reclutare una ranger. Per fare una ranger mi serve una torcia e un'armatura leggera, quindi dovrò andare nella... adesso non mi ricordo più dove... forgio per strumenti, no. Fa legnameria e faccio produrre una torcia. La torcia mi serve un asse di legno duro, quindi ne faccio due, dai. E dopodiché devo andare a fare... e non mi ricordo più dov'è, perché appunto il tutorial vi dice devi fare queste cose, boom. Dopodiché ti viene voglio, una volta concluso il tutorial, siamo verso la fine, verso due terzi, capite dove andare a farla. Ma, qualora io volessi vedere dove si fanno le armature, posso andare qua e vedere cosa produce. Ok, il negozio del sarto, che era da questa parte. Allora, il negozio del sarto era... no. Qua, sì. Qua, vedete, posso produrre l'armatura leggera. Io la produco. Le faccio produrre una, mi chiede... Sì, me ne produce una. Posso dargli la priorità e me la producono. Usa un ladder. Il ladder è raccolto a sua volta dal cacciatore, che caccia gli animali nella foresta. Una volta che io ho prodotto quella risorsa, posso andare appunto dove ero prima e reclutare un ranger. Quindi posso farne uno. Vedete che qua mi sta producendo, perché è più uno. A breve mi metterà, se ho abbastanza... Vedete anche qua, più uno. Io a questo punto clicco e produco un ranger. Poi, della ranger, cosa me ne faccio? Non mi è ancora chiarissimo, perché il tutorial non vi spiega nulla. Però, intanto, possiamo fare le cose. Allora, intanto qua vedete che hanno costruito. Sono riusciti a fare, quindi... Personali in arrivo. E ci saranno tre persone. Vedete, 0 più 3. Quindi stanno arrivando tre persone, che scaveranno la pietra calcarea. Ora, devo costruire un'altra baracca del carbone. Il tutorial mi dice questo. Quindi io vado, prendo la baracca del carbone, lo piazzo in un punto dove c'è carbone, me lo evidenzia. Non posso piazzarlo lì. Lo metto qui. Posso metterlo anche qua, non c'è un gran problema. Lo piazzo qui e poi gli faccio la strada. È bruttissimo da vedere, ma... Tant'è. Allora, e poi mi dice anche di fare una fonderia. Ok. Per fondere il minerale. A questo punto, è quello che avevamo visto prima, la fonderia è questa. Devo trovare un punto dove costruire. Io ho ancora questo punto qui, che magari ho un po' di spazio, no? Devo farla qui. Per forza ricordo. Ok. Poi, mi dice di espandere il discorso del Torre di Guardia. Vedete, ne ho fatto uno. Dovrei farne altre. Perché quando dice espandi il Torre di Guardia, vuol dire, cioè, espandi le persone del Torre di Guardia, significa fai il Torre di Guardia. Quindi facciamo. Bruttissimo da vedere. Però ho ancora tutta questa zona. Uno dei difetti del visuale è che non va più lontano di così. Quindi, voi potete zoomare. ed è una grafica che ricorda quella che era The Settlers, ovviamente, in tempi più moderni. Ma non vi allontana più di così. Quindi c'è, è vero, la minimappa in fondo che vi dà un'idea di quello che possedete, dei vostri confini. Perché si vedono qui. Queste qui sono tutte pietre che voi usate, producete e vi producono per espandere i confini. Ma andando avanti, poi, abbiamo esplorato a metà dell'isola, ci saranno anche altre unità. Infatti, poi, si potrà anche combattere. Intanto, hanno costruito la fonderia, quasi costruita. A breve. È troppo veloce il 5x, non è da usare, tanto tutorial non ci si può sbagliare. Produce barra di ferro e barra d'argento. Adesso, frantoio per pietre. Questo non me l'ha mai fatta costruire, dovrò costruirla adesso. Frantoio per pietre. Non ho spazio, vedete, io lo sto piazzando praticamente a caso, quindi, dovrò pianificare meglio in futuro. Anche in virtù di quella che è la nostra espansione. Ed è una cosa molto bella questa cosa che non sia tutto chiaro subito, ma vi invoglia a prendere le meccaniche, quelle che a grandi linee vi sto spiegando adesso, e poi vi ricominciate la partita giocandola come si deve. Dobbiamo costruire anche la forgia di armi. Vedete che è tutto abbastanza veloce. Forgia di armatura, forgia di armi. È qui. Lo piazziamo tutto in questa nuova zona qua. frantori per petria, vedete, 0 più 1, quindi lo stiamo facendo lì. E 0 più 1 anche forgia di armi. Costruisci baracca dell'argento. Baracca dell'argento, che è questa, devo trovare un punto dove c'è dell'argento. Che sia questo? Sì. Vediamo se c'è una zona raggiungibile, perché mi sembra un po' in culonia sta zona. E in effetti, sì, c'è qualcosa anche lì, ma non è una zona agibile questa. Vediamo se è piazzabile qua. Sì. Perfetto. In questo caso me la mette. Man mano io sto completando tutti questi obiettivi che mi dà, mi sta facendo fare tutto senza una spiegazione. sono uscite due pop-up durante l'inizio dove mi spiegava il fatto che si può andare a ruotare la visuale cliccando, si trascina e ci si muove con la visuale, ma nient'altro. Quindi anche qua una volta era tutta campagna. Adesso dovrei spostare il capanno del taglialegna che è qua e agisce qui, ma va bene, ci sta perché comunque taglia e ripianta. E c'era qua sotto e questo qui invece che una volta era campagna appunto c'era il guardia boschi che ripianta intorno a sé quindi dovrei metterlo in modo un pochino più saggio. La popolazione in teoria poi continuerà a scendere dalla nave man mano si liberano nuovi posti, però non ho ancora preso dimestichezza con tutti questi menu sopra con i ruoli che si possono andare a impostare. c'è poi anche lo stoccaggio, tesoreria, punto di scambio, ci sono tante cose ancora da vedere insomma ormai ho già costruito la maggior parte degli edifici. Forge d'armature mi manca anche quello quindi coni o no forge d'armature la zona industriale è questa che non c'entra niente perché è totalmente fuori ma intanto vedete che la forge d'armature mi fa fare la spada di bronzo la lancia di ferro la lama d'argento mi sta facendo fare tutto il frantorio per pietre produce cemento costruisci mulini a vento mulini a vento mi sembra più una cosa da città quindi dovrò fare mulino a vento so già come va a finire qui quindi non mi piace quella zona lì lo facciamo qui non c'è la strada facciamo così mulino a vento tanto so già che dovrò fare il panificio dopo il forno quindi facciamo così piazziamo le strade facciamo comunicare così e poi magari lo facciamo in modo un po' più saggio ok così vedete che poi loro ci sanno arrivare ma ufficialmente servono le strade forge d'armature questo costruito mulino a vento in costruzione fornisci personale lettore di guardia ok la guardia il soldato così ok no non devo costruire lettori ma devo reclutare gente quindi for già darmi no io mi chiedo se la produzione di guardie sia mi mandi in automatico la produzione di cose vediamo 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 cosa mi serve di preciso guardia o soldato ok facciamo la guardia che costa meno si devo farne 10 quindi io metto in produzione 10 di queste persone qui non ho lanci di legno dovrò fare dovrò costruirle con la forgia d'armi e quindi però mi sa che le lanci di legno sono di legno e me le fa questo no la falegnameria non no scusate la forgia no la falegnameria si lancia di legno quindi producimene 10 vedete che sono andati in produzione quindi questo punto dovrebbe uscire qua che in produzione mi esce più nessun ordine di lavoro selezionato no sono un pirla devo andare qua 8 no ne stanno già facendo no 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 ok ok lancia di legno è qua che usciva il più sì perfetto stiamo reclutando infatti le persone adesso saliranno perché appena abbiamo le armi sufficienti e riusciamo a compensare anche questo obiettivo qua a destra soldati veterani uno un soldato veterano adesso stanno finendo anche qua io non mi ricordo più dove vanno messe le cose allora soldato veterano non era qua ma qua sotto qua quindi soldato veterano soldato veterano mi serve scudo di legno e spada di ferro quindi ne recluto uno scudo di legno spada di ferro quindi spada di ferro una e scudo di legno scudo di ferro no ma lo farà ancora la fa le mie amere anche quello credo eh sì scudo di legno ok produco uno intanto la gente sta salendo mulino vento quasi pronto e mi finirà anche la destra soldato veterano breve intanto il mulino dovrebbe essere quasi pronto sì stanno finendo stanno portando fisicamente le cose sì poi graficamente ricorda molto sì The Settlers quella grafica di un Warcraft 3 un Warcraft iniziale insomma è molto semplice ma funzionale ho quasi finito dai che non sta andando male costruisci i coni e costruisci una fonderia due fonderie dice quindi piazzerò una seconda fonderia senza ricordarmi minimamente dove ho messo la prima sono veramente un cane io ho fatto queste cose devo eh vabbè lo mettiamo qua il conio lo mettiamo qua vicino al panettiere vicino al forno ok eh tecnicamente dovremmo finire adesso con abbiamo uno scudo una spada che in produzione l'ha prodotta e dovremmo aver prodotto anche la guardia sì infatti non c'è più no soldato veterano o che non l'aveva ancora contato non lo so coni in costruzione mulino in costruzione sì perché poi bisogna aspettare che finiscano ci asservano due ingranaggi di legno in questo caso bisogna andare sotto alla falenameria dirgli di fare due ingranaggi di legno ottenere una produzione di almeno otto pezzi perché vabbè intanto producono e ovviamente c'è una micro gestionalità che potrebbe sfuggire di mano perché anche qua due ingranaggi di legno anche di là quindi me ne servono parecchi di ingranaggi di legno quindi mettiamo in produzione tutto il soldato veterano non lo vedo ancora e non capisco perché quindi torno qua soldato veterano ah ma è uno e uno voleva questo si chiamano in modo diverso spada di ferro corta di maglia scudo di ferro ok corta di maglia scudo di ferro quindi corta di maglia scudo di ferro e spada di ferro veloce adesso non si scappa più adesso stanno lavorando stanno producendo quindi credo che arriverà sto soldato era l'altro allora cuoce del pane allora adesso ma finito anche quello quindi si va il conio così finito forno produce del pane lo farà già da solo qua prende dei cereali del frumento costruisci tesorerie che era qua no no era qua tesoreria che mettiamo qua davanti perfetto con priorità grazie e soldato 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 più uno ok sta arrivando bisogna una spada bisogna uno scudo e c'è anche scritto infatti si chiamano veterani tutti e due ma hanno armature diverse il conio produce monete di rame e monete d'argento la tesoreria prima preparano il terreno e poi iniziano non so cosa faccio effettivamente la tesoreria conserva monete e altre merci ok ok abbiamo anche soldato quindi abbiamo completato anche questo quindi il tutorial è quasi finito mi manca poco costruire la tesoreria infatti adesso sono guardate quanto è importante avere le strade perché loro seguono la strada e scollinano quindi se facessi una strada un po' più diretta sarebbe un po' più facilitato adesso abbiamo finito anche questo bene perfetto conserva monete d'argento conserva monete di rame quindi loro tesori monete può tenere fino a 7 merci quindi io ok ho vinto ho completato tutti gli obiettivi perfetto conserva monete d'argento sì ok questo ho completato l'obiettivo ora tornando al menu principale che poi guardarla qui immagina esattamente quello che ho costruito la nuova partita mi consente di fare una mappa personalizzata o non il tutorial non la mappa guidata che guidata non è ma questa serie di mappe dove potremmo andare ad affrontare altre cose la cosa interessante è che non sarà un gioco un'ambientazione legata strettamente a qualcosa di realistico ma si parla comunque di mostri si parla di classi infatti nei futuri aggiornamenti verranno aggiunti lo stregone l'incantatrice nuovi nemici maledetti maledetti cacciatori di tesori aggiungeranno bierifici vigneti e così via quindi diventerà anche fantasy come piace a me fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Pioneer of Pagonia 29,99€ e vi concorderete con me spero se siete arrivati fino a questo punto del video sul prezzo perché comunque già offre tanto in early access fatemi sapere qua sotto nei commenti alla prossima e ciao 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 Grazie a tutti.